Se la Puglia non sale a Milano, è Milano a scendere in Puglia. Si potrebbe fotografare idealmente in questo modo l'estate dell'Associazione Regionale Pugliesi di Milano che, pur non realizzando eventi nella città meneghina, sarà presente con i suoi iscritti a varie manifestazioni della regione d'origine con convegni e dibattiti, spesso fondamentali per gettare poi le basi di quella che sarà l'attività invernale. Ne abbiamo parlato con Agostino Piccico, responsabile culturale dell'Associazione. In particolare mi viene in mente l'incontro che si svolge nella città di Bisceglie, la festa per gli emigranti che vede appunto un cinque giorni in cui l'amministrazione comunale dedica una particolare attenzione ai biscegliesi emigrati a Milano che quest'anno avrà il suo culmine a Cellino San Marco presso la tenuta del noto cantante Albano che ospiterà questi nostri corregionali per un incontro, una visita di cortesia. Anche nella città di Giovinazzo, la mia città d'origine, il direttivo dell'Associazione regionale Pugliesi incontra il sindaco e gli altri amministratori locali per un momento di conversazione, di discussione, in cui si mettono le basi per gli eventi dei prossimi mesi, in primis la BIT, e siamo già stati ospiti al Festival del Libro Possibile di Polignano, un festival letterario-culturale di ampio spessore e livello per tutto il sud Italia in cui l'Associazione ha consegnato materialmente il premio ambasciatore Terre di Puglia alle mamme di San Vito, l'associazione di volontariato che si occupa degli orfani di strada in Brasile.